E parliamo della chiusura per lavori al C.E. di Modena. In questa ora sono iniziati i trasferimenti dei trattenuti. Il C.E. di Modena, dice il consigliere regionale Andrea Leoni, è stato costruito ex novo solo pochi anni fa ed è entrato in funzione nel novembre 2002. Evidentemente si trova oggi in condizioni tali da dover essere chiuso per lavori con il conseguente trasferimento ad altri centri, dei clandestini presenti che attendono di essere espulsi. Non possiamo scordare, dice Leoni, come la costruzione di un C.E. a Modena sia stata sostenuta con tanto di raccolta di firme dall'allora sindaco di Modena Giuliano Barbolini e che per anni è stato propagandato dalla sinistra modenese e non solo come la struttura più moderna ed idonea per rendere effettivo quanto previsto dalla legge sull'immigrazione turco-napolitano, conclude il consigliere Andrea Leoni.